Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo all'inaugurazione, oggi nella caserma dei carabinieri di Niscemi, di una stanza tutta per sé. L'iniziativa, che qualche settimana dietro si svolta anche a Gela, rientra nell'ambito di un progetto promosso dal Sonoptimist Club dopo la stipula di un protocollo d'intesa con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. L'aula servirà per accogliere in un ambiente idoneo le donne vittime di violenza fisiche e psicologiche che trovano il coraggio di denunciare. Vediamo. Dopo Gela, anche a Niscemi è stata istituita una stanza tutta per sé. L'inaugurazione si svolta oggi nella caserma dei carabinieri in piazza Martiri di Nassidia. L'iniziativa rientra nell'ambito di un progetto promosso dal Sonoptimist Club di Niscemi dopo la stipula di un protocollo d'intesa con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri sottoscritto dal Sonoptimist Club nazionale. L'aula servirà per accogliere in un ambiente idoneo le donne vittime di violenza fisiche e psicologiche che trovano il coraggio di denunciare. Un arredamento sobrio ma confortevole nella scelta di mobili, colori, illuminazione e complementi di arredo. Io ritengo che sia veramente importante che tutte le donne, anche in una città come Niscemi, possano avere la possibilità di ricevere l'adeguata accoglienza quando devono appunto denunciare una violenza, la qualunque cosa che li traumatizzi. Per me è stato ed è un onore che questo si sia potuto realizzare. Si sono mai verificate delle situazioni in cui delle donne si sono avvicinate a voi perché hanno vissuto delle esperienze difficili in famiglia? Io insegno al liceo e proprio quest'anno, verso la fine dell'anno scolastico, io avevo intuito che c'era qualcosa che non andava in una mia alunna e poi parlandone ho scoperto che sia la madre che lei subivano delle violenze da parte del genitore e quindi io ho cercato ancora, la stanza non era pronta, però io già ho cercato di fare qualche cosa. Questo progetto nasce da un'idea del presidente del club di Torino, diventata poi presidente nazionale e che vuole dare una possibilità alle donne che purtroppo sono vittime di violenza, di avere un ambiente accogliente, sobrio. È chiaro che la sobrietà o la confortevolezza di una stanza non leniscono il donore, però possono rendere meno traumatico l'evento denuncia. Questo progetto ha avuto veramente un successo insperato e inaspettato, se si pensa che in poco più di sette mesi ne sono state realizzate circa una ventina e con un pizzico di orgoglio da vicepresidente, ma da vicepresidente siciliana devo dire che il contributo maggiore è stato dato proprio dalla mia regione, dalla Sicilia. Ne sono state realizzate ben sei e ce ne sono altre ancora in itinere e in corso di programmazione. Quindi davvero un successo con un'unica speranza che queste stanze siano non utilizzate ma quantomeno utilizzate il meno possibile. E il procuratore capo di Gela, Fernando Asaro, sottolinea che le denunce, nonostante un vero e proprio muro di omertà, aumentano e l'intervento della magistratura e delle forze dell'ordine è immediato e costante. Sentiamolo al microfono di Fabiola Polara. Stanare il dato sommerso di questi reati all'interno dei nuclei familiari, da dove quasi sempre provengono le violenze, è molto complicato. Che cosa si può fare? Forse le associazioni, gli insegnanti, le scuole possono arrivare prima delle istituzioni? Beh, intanto bisogna salutare con grande soddisfazione e grande piacere questa sintesi fra pubblico e privato, fra l'associazionismo, il volontariato e l'attività istituzionale, l'attività pubblica, perché questi sono i momenti in cui si danno risposte concrete a quella ricerca di legalità anche all'interno delle famiglie, dove è sicuramente più difficile rompere il muro di omertà, perché è dettato da una serie di circostanze evidenti di carattere assolutamente personale, molto difficili da affrontare, perché c'è una famiglia, ci sono sentimenti, ci sono figli e quindi è molto difficile evidentemente per una donna che subisce violenze o maltrattamenti all'interno di un contesto familiare uscire e poter far valere i propri diritti. Però queste sono le occasioni, questi sono i luoghi fondamentali in cui si concilia appunto l'interesse del singolo con l'interesse del bene comune e vanno incoraggiate, vanno rafforzate e speriamo che da questa sala, da questi incontri, possano generare fattori sicuramente di maggiore legalità anche all'interno delle famiglie. Che percentuale abbiamo sui dati relativi alle denunce? Con riguardo alle denunce abbiamo circa un numero sicuramente sempre limitato rispetto a quello che è la realtà, però devo dire con un certo anche in modo confortante che negli ultimi anni l'attenzione è stata della procura, di chi mi ha preceduto, molto particolare, molto attenta su questa tematica e le denunzie sono in crescita, le denunzie per maltrattamenti in famiglia o per reati connessi a vicende, a violenze o minacce all'interno del contesto familiare sono assolutamente in crescita rispetto a cinque anni fa. Vuol dire che la strada, la strada dell'informazione, della conoscenza, il superamento delle barriere, fra virgolette, mi sia consentito dire, dell'ignoranza o della connivenza, dettata da determinati fattori, sta per essere superata. Questo è molto molto importante, informare ha una funzione determinante perché da oggi le donne, le vittime, i minori di Niscemi sanno che qui c'è la disponibilità di un'aula per essere ascoltati. Il pensiero manifestato dalla procuratore di Gela è stato ripetito anche dal comandante provinciale dei Carabinieri di Calzanissetta e da quello di Gela. Per il sindaco di Niscemi, Francesco Larosa, è importante che nella propria città ci siano numerosi presidi di legalità. Ci sarà del personale specializzato pronto ad accogliere queste donne per approntare anche un approccio idoneo? Le stazioni carabinieri sono per loro stessa natura, appunto, di contatto e di incontro con la popolazione. Si tratta di persone che vivono costantemente il territorio, parlano tutti i giorni con la gente del paese e spesso conoscono situazioni anche meglio di altri operatori per il solo fatto che vivono costantemente questa realtà. È ovvio che nel momento in cui ci dovesse essere necessità di competenze ulteriori, specialistiche, da punto di vista psicologico, diagnostico e anche sanitario, noi siamo i primi a fare intervenire questi ulteriori operatori. Fermo restando che anche l'arma ha delle proprie strutture specializzate per la raccolta di determinati tipi di informazioni connessi però essenzialmente alla commissione di reati e ferati. A contezza del numero delle denunce che sono state effettuate presso la sua giurisdizione tra Gela e Niscemi e cosa si può fare invece per stanare il dato sommerso perché il percentuale delle denunce è sempre una percentuale irrilevante rispetto invece alle situazioni che si consumano realmente purtroppo nei nuclei familiari laddove la donna ha difficoltà a raccontare e a denunciare. Parlando del territorio di Niscemi e del comune in modo particolare, i reati che riguardano le violenze domestiche e gli atti persecutori sono circa una ventina, sono dati del 2015 naturalmente e che riguardano le denunce raccolte dall'arma dei carabinieri. Per questo noi ci predisponiamo anche in una serie di misure preventive che riguardano ad esempio il ritiro precautelare delle armi per i soggetti che sono possibili o presunti autori di violenza all'interno delle mura domestiche e soprattutto mettiamo in contatto le donne con i centri antiviolenza che sono presenti nel territorio ma diamo anche loro un supporto che è di natura oltre che anche di vicinanza che è la classica funzione sociale che l'arma dei carabinieri svolge sul territorio. Ecco l'iniziativa di oggi mira proprio a superare, ad abbattere questo muro di omertà, di vergogna, di ritrosia che molto spesso si annida all'interno delle mura domestiche. Questo evento creato dal Sor Optimist che sono nati a Niscemi circa tre anni fa ma già hanno portato avanti delle iniziative come le scarpe rosse in piazza contro tutte le vittime della mala gestione familiare. Questa è una delle pecunialità che vive purtroppo la famiglia più che altro al sud laddove la donna non denuncia perché è ancora sottomessa dalla forza maschile dell'uomo che a volte si trasforma in bestia. Adesso un presidio di legalità all'interno della caserma dei carabinieri qualcosa che può dare spazio a chi vuole denunciare specialmente alle donne e ai minori. Sono stati celebrati questa mattina nella chiesa Sacro Cuore da Don Angelo D'Amico i funerali di Concetta Legname, la casalinga di 39 anni morta per riscorso nell'arrogo della sua abitazione di via Novara 49 nel quartiere Baracche sulla bara è stato poggiato un letto di rose rosa mentre davanti alla stessa bara è stato collocato un cuore di rose rosse e la foto del giorno in cui Concetta Legname si è sposata. Un dolore composto, quello dei familiari della donna, intanto ieri pomeriggio al cimitero Farello sul corpo della donna è stata eseguita l'autopsia, proseguono anche le indagini coordinate dall'assistuto procuratore Eugenia Belmonte e condotte dalla polizia per tentare di risalire alle cause dell'incendio che ha devastato l'appartamento dove Concetta Legname ha trovato la morte. Cambiamo argomento, il comitato del porto del Golfo di Gela e l'associazione di pescatori insorgono contro l'amministrazione comunale in merito ad un finanziamento project financing proposto da una società estera intenzionata ad investire per la riqualificazione del porto rifugio di Gela. La proposta, si legge in una nota, non è mai stata presentata da parte dell'amministrazione comunale nella persona del vice sindaco Simone Siciliano al gruppo di lavoro porto di Gela, costituitosi presso il comune di cui fanno parte i consiglieri Enzo Cirignotta, Virginia Farruggia, Salvatore Scerra che fin ad oggi hanno portato avanti tutte le iniziative con i risultati ottenuti. Mentre l'iter autorizzativo del finanziamento di 6 milioni di euro è fermo alla regione Sicilia in attesa della firma del verbale della riunione avvenuta il 28 giugno scorso tra regione Sicilia e Eni comunigela in presenza dei rappresentanti del comitato per far partire i lavori per il dragaggio e l'allungamento del braccio di ponente, l'amministrazione si legge ancora nella nota invece di sollecitare l'iter alla regione e si occupa a perdere tempo a presentare altre iniziative non fattibili senza mettere a conoscenza il gruppo di lavoro. È stato chiesto un incontro urgente al presidente del consiglio comunale di Gela Alessandra Ancia che si terrà domani presso il gruppo di lavoro del comune per avere chiarimenti in merito. 168 persone controllate, 84 tra autoveicoli e moto ispezionati e il bilancio conseguito da Carabinieri di Gela durante il weekend nell'ambito dei servizi al fine di contrastare le stragi della sabato sera. I militari dell'arma hanno segnalato un giovane di 23 anni per uso personale di sostanze stupefacenti. È stato soppreso in piazza Salandra nella zona retrostante il teatro comunale mentre era intento a fumare dell'ascis. Una successiva perquisizione personale ha consentito di trovare 0,25 grammi della stessa sostanza stupefacente custodita all'interno di una tasca dei pantaloni. Sono stati sottoposti a fermo amministrativo 12 motocicli per il mancato uso del casco protettivo ed elevate 3 contravenzioni per mancata copertura assicurativa e 7 contravenzioni per il mancato uso della cintura di sicurezza. Deferito in stato di libertà la procura della Repubblica di Gela per guida in stato di brezza un gelese di 50 anni operaio resosi responsabile di un sinistro stradale che fortunatamente non ha causato né vittime né feriti. Giunti sul posto per eseguire i rilevi del caso i militari dell'arma hanno percepito che il conducente del mezzo causa del sinistro stradale si era messo alla guida nonostante un tasso alcolemico ben superiore al consentito. Espletati controlli di dito attraverso l'uso della strumentazione a bordo dell'autoradio e poi dopo con il prelievo ematico presso l'ospedale è emerso che l'uomo aveva un tasso alcolico tre volte superiore a quanto consentito dalla legge. Durante i controlli che hanno interessato la zona delle lungomare Federico II di Svevia, piazza Salandra, via Rossini e il Corso, sono stati fermati anche due soggetti di nazionalità tunisina, entrambi maggiorenni, alla guida di un motociclo. Il conducente, sprovvisto di patente di guida valida in territorio italiano, è stato sanzionato per guida senza patente, mentre il passeggero di 34 anni, bracciante agricolo, con precedenti penali a seguito di accurate controlli, aveva il proprio permesso di soggiorno irregolare in quanto non rinnovato. Per questo motivo è stato inviato verso la questura di Ragusa competente per residenza al fine di regolare la propria posizione. Se non avesse ottemperato agli obblighi di legge, per lui sarebbe scattato in automatico il rimpatrio in Tunisia. Sempre durante i controlli sono stati denunciati due gelesi, entrambi noti alle forze dell'ordine. L'accusa è riciclaggio e ricettazione di un ciclomotore rubato circa un mese fa. I due ragazzi sono stati infatti sorpresi alla guida di un motorino, la cui targa era palesemente contraffatta. Continuano i festeggiamenti in onore di San Sebastiano a Gela. Da domani comincerà il triduo alle 17.30, arrivo dell'effigie di San Sebastiano nel quartiere Margi alle 18, recita del Santo Rosario alle 18.30, a Vespro e alle 19 catechesi e messa. L'effigie del Santo giovedì 4 agosto sarà portata nel quartiere Albani d'Occella e venerdì 5 nel quartiere Poggio Blasco. Sabato 6 agosto alle 18, recita del Rosario alle 18.30, a Vespro e alle 19 solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione delle autorità civili e militari. È prevista la processione del simulacro e in Piazza Santa Faustina si terrà la benedizione con la reliquia. Un'esperienza unica e indimenticabile è la sfida delle correnti del mare tra Scilla e Cariddi in occasione della decima attraversata della solidarietà promossa da Fidas Nazionale, Fidas Calabria, Fidas di Reggio Calabria. Giovani volontari e donatori delle federate Fidas Adas del Lazio, della Sicilia, di Verona e della Calabria si sono ritrovati assieme per tendere il braccio a chi ha necessità di sangue e lo hanno fatto con una staffetta nel mare dello stretto tra Calabria e Sicilia. Nel gruppo partito da Punta Faro anche il giulese Rosario Savasta impegnato nel volontariato da anni. Savasta che aveva già partecipato all'edizione dello scorso anno ha voluto gettarsi in mare a dispetto della propria condizione fisica, riuscendo a notare per quasi un chilometro in mare anche un altro giulese, il giovane Felice Moscato, che con le sue bracciate ha inteso testimoniare il proprio impegno nella promozione e della donazione del sangue, soprattutto nel periodo estivo. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Ed eccoci, seconda parte del telegiornale, continuano gli appuntamenti con l'estate giulese 2016, domani alle 21.30 al Teatro Comunale Eschilo, in scena lo studio Chiros, giovedì 4 agosto, sempre alla stessa ora, in piazza Salandra, associazione Soundown e Verdi 5, nella zona Rinascimento, associazione culturale Sergio Di Dio. E adesso parliamo del Gela Calcio, sono ore cruciali, in seno alla dirigenza bianco-azzurra, il punto in questo servizio. Se alla fine del campionato scorso, con la vittoria finale del Gela, con tanto di salto di categoria in Serie D, ci avessero detto che sarebbero arrivati dopo soli tre mesi guai seri, non ci avremmo assolutamente creduto. Tanta era l'euforia, la gioia per quanto conquistato, che tutto passava in secondo piano. E a chi sosteneva che si sarebbero presentate nubi cariche all'orizzonte, non avremmo dato ascolto. Proprio al termine della partita vinta col Cusso Palermo, era il 17 aprile, il patrono bianco-azzurro, Angelo Tuccio, aveva lanciato un appello a tutti, rimasto inascoltato. Risentiamo cosa disse ai nostri microfoni Tuccio. Per dire la nostra su alcune cose che non vanno come giusto che sia, per dire la nostra su quello che ci vuole per migliorare le strutture sportive e tutto ciò che ruota attorno al calcio in questa città, perché è chiaro che vogliamo andare avanti, tutto questo non può che crescere, non può che migliorare. Come ho detto, io ritengo che il gelacalcio e il calcio debbano rappresentare una punta di diamante per questa città. Tutto il resto si deve fare, si deve ricostruire. Non dimentichiamo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo gli anni peggiori della nostra storia. Noi vogliamo essere la nota positiva, appunto quella punta di diamante che trascina il resto verso lì di migliori se è possibile. Quanto dichiarato da Tuccio doveva essere da sprone per tutti e invece, da allora ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passate tanta, ma la conclusione è amarissima. Tuccio si è dimesso dalla carica di presidente e la società è in vendita. I lavori al campo sportivo Vincenzo Presti non sono cominciati e una parte della politica non vuole che l'impianto sportivo di Contrada Giardinelli, così come votato dal Consiglio Comunale, su proposta del consigliere di Forza Italia, Salvatore Scerra, venga gestito proprio dal gelacalcio. Un calderone di problemi che è già esploso. Oggi pomeriggio il tecnico Totò Bruccoleri, il direttore sportivo Giovanni Martello e i giocatori Maurizio Nassi e Alessandro Bonaffini terranno una conferenza stampa e dall'incontro con i giornalisti si avrà un quadro chiaro su cosa potrà accadere da subito. La squadra è ritornata in città dopo il ritiro per campionato a Zafferano e Tenea e ha fatto tappa a Gela con il cuore in gola, perché nessuno mai poteva immaginare quello che purtroppo sta accadendo. Numerosi attestati di stima rivolti al patron Tuccio hanno preso carte penna a tifosi e amministrazione comunale. Ma, nonostante tutto, come dicevamo, la vicenda è assolutamente precaria. Si rischia realmente di cancellare quello che di buono è stato creato. Altro che sistema, quel sistema tanto decantato da Tuccio e che a Gela non trova terreno fertile. Serata dedicata alla cultura al Club Vela di Gela. Oggi alle 21 sarà ospite lo scrittore di Romanzi Gialli, siciliano d'origine ma romano d'adozione, Carlo Barbieri, che converserà con Francesco Pira sull'ultima sua opera intitolata Assassino alla Targa Florio. Ad aprire l'evento, i vertici del Club Vela, il presidente Luigi Nastasi ed il suo vice Sergio Antonuccio. L'incontro si svolge con la collaborazione della libreria di Felicia Randazzo. Croce Rossa Italiana in partnership con il Ministero della Gioventù presenta l'edizione 2016 di Campo Giovani. Una settimana, da oggi all'8 agosto, per avvicinare i giovani alle tematiche dell'educazione, alla salute, alla pace, alle tematiche sociali, la lotta al pregiudizio e all'omofobia. Ogni attività è caratterizzata dalle tematiche tipiche, fra quelle affrontate giornalmente dai giovani della Croce Rossa. Sentiamo. La Croce Rossa non va in vacanza, anzi, e organizza un campo estivo. E come si svilupperà l'iniziativa che vedrà il coinvolgimento soprattutto di numerosi giovani? Sì, Campo Giovani è un'iniziativa promossa da Croce Rossa Italiana in partnership con il Ministero della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, il quale ogni anno finanzia dei cambi al quale parteciperanno dei giovani dai 14 ai 20 anni provenienti da tutta Italia per far assaporare quelle che sono le attività che ogni giorno i giovani di Croce Rossa portano avanti in tutto il territorio nazionale. È un'attività che il nostro movimento e in particolare Croce Rossa Italiana crede fortemente e anche io e il nostro comitato non possiamo far altro che abbracciare in pieno questi iniziati. All'incirca 30 sono i ragazzi che parteciperanno al nostro campo e siamo felicissimi di ospitarli tutti nella nostra struttura. E come si svilupperà il campo? Il campo è diviso per aree tematiche. Ogni giorno si tratterà un argomento tipico tra quelli che i giovani di Croce Rossa ogni giorno nelle piazze portano a termine. Tra questi la lotta all'omofobia, al pregiudizio, all'educazione, alle malattie sessualmente trasmissibili, alla sicurezza stradale e molto altro. Ma l'iniziativa si svilupperà all'interno di quattro muro oppure andrete in strada? No, il campo di per sé è all'interno della nostra struttura, la sede di Croce Rossa italiana ma durante la settimana ci sposteremo per attività ludiche e allo stesso tempo educative quali l'acquapark nella quale faremo un'attività di campagna contro le ondate di calore o al mare nelle nostre spiagge di gela. Perché bisogna sposare il progetto Croce Rossa? Perché Croce Rossa dà la possibilità a questi giovani tramite un approccio quasi informale per far sì che questi ragazzi creino reti di amicizia tra di loro. Proprio già il fatto che provengano da tutte le città d'Italia fa sì che ci sia un certo scambio culturale tra questi ragazzi. Si è concluso domenica scorsa con una finale emozionante e tiratissima. Il quinto torneo misto 4x4 di Beach Volley che si è svolto presso la Beach Arena della Lido Bicul Beach ad avere la meglio è stata la squadra Gran Fuoco impresa Anastasi Utopia composta da Giovanni Blanco, Omar Lacognata, Rosario Palmeri e Federica Apruti che ha battuto l'ottica laurea a Farmacia Pintaudi che ha visto giocare Oscar Camilleri, Nuccio Chirdo, Lorena Tilaro, Enzo Camilleri e Samuele Gnoffo. Il punteggio finale è stato di 2-0 ai parziali 21-19, 21-18. Al termine di due sette molto tirati e spettacolari che hanno divertito i numerosi presenti. Terzo posto per la squadra Igiene e Vanità Spartani su Farmacia Aliotta a cena da Leo. Il trofeo Farmacia Eleusi, dottor Angelo Salafia, miglior giocatore, è stato assegnato a Claudio Tilaro, 15 anni una delle promesse del volley locale. E premio Luca Auto, miglior giocatrice a Lorena Tilaro. L'organizzazione è stata curata da Oscar Camilleri, Luigi Turco e Giuliana Pane. E per il secondo anno consecutivo il Volley Gela organizza il torneo nazionale Beach Volley FIPAV nella forma del King e Queen. Al Lido controcorrente, dopo i successi della passata edizione, arriveranno 16 dei migliori atleti del panorama nazionale sia maschile che femminile. Nomi di punta che divertiranno il pubblico giolese dal 6 al 7 agosto. Nel calendario della settimana del volley sono stati inseriti due gironi di beach volley amatoriale aperto a tutti. Giorno 4 e 5 agosto, in una notturna, ci sarà il torneo giallo dove tutti gli appassionati possono iscriversi e passare due serate di divertimento e sport. La sera del 5 agosto ci saranno due partite di esibizione, una maschile e una femminile, di alcuni degli atleti che poi il 6 e il 7 daranno spettacolo presso il Lido. Il torneo nazionale sarà animato da Alma de Cuba di Massimo Cavallaro e dalla scuola di ginastica artistica di Walter Miccichè. Appuntamento con il teatro all'aperto all'antitodo di Macchitella a Gela. Oggi alle 21.30 in scena Non sogno una signora. Un concerto con i brani più belli degli anni 60 e 70. giovedì 4 agosto, sempre alle 21.30, la compagnia teatrale Antitodo si esibirà in servizio in camera. Il prezzo dei biglietti è di 5 euro a coppia. Venerdì 5 agosto, alla stessa ora, è previsto il galà di premiazione con ingresso libero del sesto premio Rocco Federico. Ci fermiamo, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.